Segretario, qual è la situazione di questi lavoratori che si aspettano ora di essere i primi a poter essere chiamati dalla nuova società? La situazione è quella che era già in essere da qualche settimana, ossia lavoratori, circa 35 dipendenti diretti della Progetto Sport e un'altra quarantina circa, gli istruttori che erano impegnati con le varie attività sportive all'interno della struttura questi lavoratori che peraltro sono senza stipendi ormai da più di tre mesi e da gennaio che non percepiscono chi lo stipendio, chi i compensi previsti dalle clausole contrattuali che loro hanno e ora sono legati appunto a questa aggiudicazione di cui abbiamo preso nota in questi giorni per cui come da impegni assunti anche dalla Regione Abruzzo che noi abbiamo sollecitato a far sì che vengano messe in campo tutte le iniziative utili e necessarie affinché quell'occupazione venga preservata e quindi venga assorbita dal nuovo gestore che abbiamo appreso dalla stampa dovrebbe entrare nei primi di luglio o forse anche prima se si riesce a concludere alcuni interventi strutturali necessari alla riapertura dell'impianto quei lavoratori ovviamente per gli impegni assunti anche dalla Regione rivendicano un posto di lavoro perché riteniamo che ci siano le condizioni anche perché le clausole sociali prevedono questo tipo di impostazione affinché quei lavoratori possano essere riassorbiti non solo per le clausole sociali in essere che poi peraltro non sono previsti dal bando ma c'è un impegno della Regione affinché sia comunque applicata quel tipo di tutela ma anche perché quei lavoratori sono di fatto degli esperti in quel tipo di settore per cui non è prevedibile pensare a nuove figure per affrontare una gestione di quella struttura a cui quei lavoratori hanno dedicato anni ed esperienze.